CONOSCO Conosco questo posto. I custodi hanno messo su un notevole circo. E vedo che i clown interpretano il loro ruolo alla perfezione. Sei un tipo da metafore. Lo adoro. Ti fa sembrare super intelligente. Lo sono. Lo so. Va bene. Va bene. Firmi a conferma che sono tutte le parole da lei mai dette. È assurdo. Firmi anche questo. Qui proteggiamo il corretto flusso del morale. Tu hai preso il Tesseract e hai piegato la realtà. Tu ci aiuterai a riaggiustarla. Perché io? Serve il tuo originale punto di vista alla Loki. Posso avere un'arma? No. Credi veramente in questa variante Loki? Per fortuna crede abbastanza in se stesso per tutti a due. Adio. Trovo adorabile che tu pensi di potermi manipolare. Sono dieci passi avanti a te. La fiducia non è il tuo forte, vero? Puoi fidarti di me? Loki, ho studiato praticamente ogni momento della tua vita. Hai letteralmente pugnalato alle spalle chiunque tipo cinquanta volte. Beh, non lo farò mai più. Puoi? Ho come un po. Tu dove sono solo che... Momiacomo ho! Po sei un po. E ci29. Sono la unione di tollerglia aiutar